Gentili telespettatori, buona giornata. E così l'incontro fatto in fretta tra Salvini e Meloni nella masseria Beneficio, dove la Meloni sta facendo le vacanze. Salvini in vacanza in Puglia, se non sbaglio ospite di Bruno Vespa. Salvini ha chiarito che se Forza Italia votasse lo Iuscole con il PD si abrirebbe un gran problema nella maggioranza. E direi forse più di un gran problema, perché come vi dicevo in questi giorni, se l'opposizione, le minoranze propongono una legge che il governo non vuole che in teoria è maggioranza e alla fine il partito Forza Italia vota con l'opposizione contro il parere del governo e passa una legge proposta dalle opposizioni, succede che la maggioranza non c'è più e si forma una maggioranza che si rassegna le dimissioni. Quindi quando Salvini dice se Forza Italia vota con le opposizioni sarebbe un gran problema, direi forse più di un gran problema, perché porterebbe alla caduta del governo. E così in poco più di due ore Giorgio Amelloni e i suoi ospiti con Salvini sono riusciti a giocare a burraco e anche a rispondere a un quiz. E così tra le mura bianche della masseria Beneficio in Valle d'Itria si sono tuffati, fatto il bagno, Salvini che è arrivato con la fidanzata Francesca Verdini hanno giocato a burraco, io non ho idea neanche di che cosa sia il burraco, dice che lei grande giocatrice di burraco, a sorpresa il presidente della Camera Fontana assieme alla moglie e alla figlia, l'incontro che il Corriere della Sera aveva già anticipato, ha creato qualche imbarazzo della maggioranza perché non si doveva sapere questo incontro o doveva passare sotto tono. Meloni e Salvini hanno telefonato a Tajani perché non si sentisse escluso dal summit. E così il ministro degli esteri italiani si è mostrato assolutamente tranquillo. Ha detto che se fosse stato in vacanza in Puglia sarebbe andato molto volentieri anche lui a farsi un tuffo apparentemente serafico, dice sto al fresco a Fiuggi, qui diluvia e aspetto i miei nipoti. La Premier poi ha reso pubblica questa notizia proprio per smentire che lei e Salvini si fossero riuniti d'urgenza per stringere alleanze e per capire cosa stesse combinando Tajani. infatti Meloni dice una stupidaggine quella che è circolata, anche Tajani ha tranquillizzato i suoi, dice il vertice di maggioranza 3 si terrà a Palazzo Chigi il 30 di agosto e lì la Meloni con i due vice Salvini e Tajani dovranno ripartire con una serie di problemi, uno dei più insistenti è quello della RAI, la spartizione delle poltrone in maggioranza in RAI e perché Salvini non è contento di quello che deve ricevere come poltrone. Poi c'è la prima manovra finanziaria con il nuovo patto di stabilità europea, le pensioni, la giustizia, la legge sulla cittadinanza, la concorrenza. Salvini dice chiaramente se il Partito Democratico e Forza Italia votassero assieme la legge sull'Ujuscole si aprirebbe un grande problema in maggioranza. I tre hanno, non Tajani ma Salvini, Meloni e Fontana, hanno ripreso la necessità di restare uniti e non dividersi, visto che le opposizioni hanno cominciato a unire le forze con Renzi che si è subito agganciato al Partito Democratico. Salvini ha chiesto rassicurazioni sull'autonomia, la Meloni, che è la sua riforma bandiera, che davvero i leghisti credono sia una sorta di secessione economica dal nord al sud e loro ci credono. Il primo è Zaia che dice è una cosa che dobbiamo assolutamente, loro si sono fatti l'idea che chissà che cosa sia questa autonomia, invece è quella che vi ho sempre raccontato. Si dice che Meloni abbia fatto capire a Salvini come sia inutile, forse anche controproducente, continuare a tergiversare sul destino degli stabilimenti balneari. Le gare chieste dall'Europa non sono più aggirabili, probabile ci sia scappata anche qualche parola sulle carceri, Raffaele Fitto, eccetera, però la Meloni dice che ormai su queste gare dei balneari non si può fare più niente, ormai questo è. E poi la giornata della Premier viene poi funestata, dicono, dal caso Arianna Meloni, sua sorella, e poi un guasto alla rete elettrica che ha fatto un blackout proprio mentre si stavano riunendo. E così poi è spuntato anche Andrea Gianbruno, si è stato fotografato mentre scorazzava in bicicletta a tutta velocità davanti alla villa, mentre rispondeva sarcastico a un collega questa non si è riuscita a farla, perché andando veloce dice non si è riuscita a riprendermi, no? Va bene, ma... una riflessione... ma... io come vacanza preferisco andare al mare e girare, ma rinchiudersi dentro una masseria con fuori 35 gradi dove c'è solo una piscina... boh, non so, ci stavo pensando in questi giorni, non so... andare lì dieci giorni in una masseria seppur di lusso, seppur bella, però chiusi lì dentro con una piscina... boh, non so, io preferisco il mare, la spiaggia... certo che è difficile trovare una spiaggia privata dove Meloni e i suoi ospiti possano stare tranquilli, però secondo me forse io avrei scelto un qualcosa di diverso che chiudermi dentro una masseria, però ognuno fa quello che gli pare. Grazie a tutti e arrivederci a presto.